La porta a Rocchi, anzi giocatore di Marconi che poi non riesce ad intervenire sul tiro incaduto da parte del capitano del tollo Parmaricciotti, vantaggio e dunque 1 a 0 Puglesto recuperare il pallone, la palla sulla destra, poi al centro 1 a 2, perfetto di Dakà con il compagno che gli serve il tap in, facile facile, 2 a 0 tollo Tollo di nuovo gli attacco, il tollo sta pressando gli avversari con Parmaricciotti L'oppietta personale 4 a 1 del tollo che a pochi punti dal termine si porta avanti di 3 Libera il destro, tripletta personale per Parmaricciotti che poi resta ad assistere il portiere avversario forse colpito, bel gesto e 5 a 1 tollo, porta ancora avanti il pallone, lo scambio col compagno ed ecco il quarto gol del man of the match, ovvero Parmaricciotti che riceve i saluti dei compagni Grazie